Aspetta, sono tuo fratello. Vuoi vendere questo posto che è tuo? Ma che ne farai di lui? Prendi questo. Non sono venuto per cacciare. E che cosa mangerete stasera? So che è difficile parlarne, però dobbiamo farlo. Domani le farai vedere quello che hai ereditato? No, non sono qui per questo. Tutto questo è tuo, ma devi combattere adesso. Non si potrebbe vendere solo la parte di Sabrina e la mia? Quelli hanno chiesto tutto o niente. Perché dovrebbero offrire 9 milioni semplicemente per un capanno? 9 milioni di pesos? Dollari. Non so che è casa tua, ma ci sono tanti soldi in verla. La metà è per te, la metà. Potremmo cambiare la nostra vita, Salvador, capisci? E a parte la cazza, di chi avete parlato? No! Pensavo che avremmo potuto parlare in modo maturo. Dece no. Ora! Sì, sì, sì. Marco, frena! Frena! Non possiamo andare via da qui. Non possiamo andare via da qui? Non possiamo andare via da qui? Grazie a tutti.